Nel corso delle loro operazioni di controllo sul territorio sono stati diversi gli arresti per droghe effettuati dai carabinieri. A Villaricca, gli agenti della locale stazione, assieme ai militari del reggimento Campania, hanno setacciato le strade della città e effettuato diverse perquisizioni, concentrandosi specialmente su certe aree comuni che spesso vengono utilizzate come nascondiglio per droghe e armi. Durante le operazioni, i carabinieri hanno arrestato Luigi De Rosa, 42enne del posto, già noto alle forze dell'ordine, e sua moglie di 35 anni, incensurata. I due, tra l'altro percettori del reddito di cittadinanza, sono stati trovati in possesso di 25 dosi di hashish e 52 bustine, verosimilmente utilizzate per la vendita al dettaglio dello stupefacente. Sequestrata anche la somma di 80 euro, ritenuta provento del reato. Marito e moglie sono in attesa di giudizio. A finire in manette a Brusciano è stato invece liberato Veneruso, 34enne di Ottaviano, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri della squadra di intervento operativo del decimo reggimento hanno fermato l'uomo a bordo di un'auto mentre percorriva via Paolo Borsellino. Controllato, è stato trovato in possesso di diversi grammi di droga, tra marijuana e semi della stessa sostanza. Rivenuto e sequestrato anche il materiale per il confezionamento delle dosi. L'arrestato è ora in attesa di giudizio e dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.